Promuovere un mercato dei pagamenti è ancora più innovativo, concorrenziale e sicuro per i cittadini. Questo è l'obiettivo della PSD2, la seconda direttiva europea sui servizi di pagamento. Divenuta operativa per rafforzare la tutela degli utilizzatori dei servizi di pagamento, la PSD2 ha infatti reso ancora più sicuro il sistema di autenticazione per accedere al conto corrente e disporre transazioni online. Al contempo regolamenta nuovi servizi di pagamento utili a chi opera e acquista tramite internet e stimola così l'utilizzo di nuovi strumenti elettronici. Per saperne di più, in parole semplici, sulle nuove procedure introdotte dalla PSD2 è possibile consultare le due infografiche rivolte ai consumatori e agli esercenti realizzate dall'ABI e disponibili in versione digitale sul proprio sito internet. Inoltre, sul sito internet di Banca d'Italia è disponibile l'apposita sezione dedicata ai pagamenti online effettuati con carte di pagamento. Grazie a tutti.